Conto alla rovescia per la terza edizione del Festival dei Giovani che si svolgerà a Gaeta dal 10 al 13 aprile. Una iniziativa che si snoderà tra oltre 200 eventi e migliaia di giovani dai 16 ai 19 anni. Obiettivo del Festival, organizzato da Strategica Community in collaborazione con la Luis Guido Carli e Intesa San Paolo, è quello di creare un luogo di incontro e confronto tra workshop, concerti, premiazioni, seminari e dibattiti. Come ha spiegato l'idiatrice e responsabile della manifestazione Fulvia Guazzone, CEO e fondatrice di Strategica Community, in occasione della conferenza stampa di presentazione su un veliero ormeggiato ai piedi della cittadina laziale. Questa terza edizione vede dei numeri in crescita perché questo è un festival dell'ascolto, quindi i ragazzi da tutta Italia arrivano a Gaeta per partecipare a più di 220, all'interno dei quali i protagonisti sono loro. Attesi, imprenditori, docenti universitari, start-uppers, personaggi del mondo della formazione, dell'informazione, dello sport e dello spettacolo per interagire con loro. Il festival, ha affermato il direttore generale della LUIS Giovanni Lo Storto, consente di intercettare lo sguardo dei giovani. È un luogo in cui migliaia e migliaia di ragazzi vengono per la prima volta a confrontarsi tutti assieme sui temi che li riguardano più direttamente, dal digitale ai social, all'Europa, alla inclusione, ai temi che sono legati all'immigrazione, alla diversità. Si partirà martedì 10 aprile con l'inaugurazione della redazione del festival. Studenti aspiranti giornalisti che racconteranno le quattro giornate con articoli, video, post, dirette e social. La giornata di apertura sarà un'occasione per riflettere sui temi del lavoro e le nuove imprenditorialità. Il giorno seguente si passerà ai social, allo sviluppo sostenibile, fino a esibizioni di show cooking insieme a Chef Stellati. Mercoledì ancora dibattiti e un grande concerto. Durante l'ultima giornata, venerdì 13, si terrà la finale del contesto organizzato da La Tua Idea d'Impresa, dove gruppi di ragazzi presenteranno i propri progetti. Il festival è un'occasione importante per Gaeta, sostiene il sindaco Cosmo Mitrano. È un evento importante che ci permette, da un punto di vista turistico, anche di fare promozione, di diffondere quelle che sono le bellezze del nostro territorio. Noi siamo orgogliosi di avere tutti questi giovani nella nostra città e quindi magari dalla città di Gaeta, dal Festival dei Giovani, possano nascere nuove prospettive per i nostri giovani italiani.